Il sole si specchia sul mare, i gabbiani sguazzano il piccolo golfo portuale e una leggera brezza settembrina rinfresca l'aria. Sono le 8 di mattina quando il sindaco Abramo di Salvatore, insieme alla portavoce della marineria Franca Ferreri, compie un sopralluogo al porticciolo di Martinsicuro. Una visita resa sì necessaria dopo le richieste avanzate dalla piccola pesca truentina, richieste che riguardano una maggiore attenzione alla vivibilità della zona, una zona all'ombra del costruendo centro polifunzionale per il porto e la pesca. I lavori per il cosiddetto ecomostro hanno infatti trasformato l'area in un grosso cantiere, generando diversi problemi. In primis l'illuminazione, su tre pali della luce impiantati ne funziona solo uno, tanto che di recente è stato rubato un motore fuori bordo senza che nessuno si accorgesse di nulla. Altri disagi sono legati alla passerella di accesso alla zona per i marinai. Non si contano le auto che hanno riportato problemi alla coppa dell'olio o danni ben più gravi dopo aver percorso il sentiero malastricato. Per terra si notano piastrelle gettate alla rinfusa sulla sabbia, alcune più sporgenti, altre più affossate. Un vero dramma per chi deve caricare e scaricare su furgoni e auto, cassette di pesce o la necessaria attrezzatura da marittimo. Il sopralluogo compiuto insieme agli elettricisti del Comune e al responsabile di settore, Franco Lancianese, ha avuto esito piuttosto positivo. Sicuramente adesso questa della strada e dell'impianto di illuminazione io credo che si possano risolvere anche in breve. Pensiamo adesso di organizzarci velocemente perché è preminente, è urgente, insomma non è una cosa che si può rinviare. Anche se, ripeto, è un fatto assolutamente provvisorio perché poi con la definizione del TOCUP c'è la sistemazione ultimativa di tutta l'area al Quintoro. E sono contenta che almeno adesso avremo un po' le luci, potremo passare un pochino meglio. E ringrazio anche il sindaco e l'amministrazione per essere intervenuti così tempestivamente.